E' giunto il momento di chiudere la partita hospice con parole chiare non tanto sul se ma sul quando e sul dove. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ed il vice sindaco Lucia Tanti tornano così a chiedere all'azienda sanitaria che stabilisca tempistiche di investimenti necessari alle realizzazioni della struttura in vista della riunione indetta per lunedì 10 maggio tra Comune ed Asla. Abbiamo inviato una lettera ad Urso, affermano Ghinelli e Tanti, perché crediamo sia necessario tracciare una linea d'azione che stabilisca definitivamente tempi e risorse. Abbiamo mantenuto un atteggiamento di comprensione quando lo scorso anno è stato spostato per la prima volta. Con il tempo tuttavia l'hospice si è trasformato in una struttura itinerante che svilisce persino la sua stessa dignità. La politica si è attivata e con soddisfazione possiamo rilevare di essere giunti ad una linea condivisa. In Consiglio Comunale è stato infatti approvato un atto di indirizzo della Lega sulla cosiddetta cittadella della salute ed è in procinto di essere approvato sempre in quella sede l'atto a prima firma di Angelo Agnolucci della lista rally di cui condividiamo l'appello e il carattere non divisivo che conferma l'hospice come uno dei cardini di questo complesso. Dunque la struttura dovrà essere nelle palazzine dell'ASL al Pionta. Consideriamo l'incontro della prossima settimana con Durso come l'apertura di un tavolo permanente concludono tanti eghinelli che terremo aperto sino a che non verrà posta la prima pietra.